Prima di passare la parola a Daimone, che è anche lui il presidente della Unitremetropolis, che ci vede al fianco, che vede la nostra associazione insieme a loro per questo primo impatto, questo primo breve ciclo sull'arte contemporanea, con la nostra Jennifer. Come dicevamo prima, è un momento importante perché l'arte contemporanea sta diventando molto attraente, tutti vogliono un po' capirne perché probabilmente tutti ci siamo resi conto che comunque è un'espressione importante del nostro contemporaneo, del nostro mondo, della nostra socialità. E per cui non possiamo banalmente dire non la capisco e barricarsi dietro a un non interesse o a un non approfondimento, ma dobbiamo cercare di almeno avere alcune informazioni, alcune basi per poter iniziare a decodificarla. L'idea è quella che se questo breve ciclo riesce a sbloccare questa nostra modalità potremmo anche mantenere durante l'anno altri incontri, altre attività proprio relative all'arte contemporanea, in modo tale che senza nulla togliere alla caratteristica degli amici dell'arte dell'antiquariato, che è anche quella dello studio degli oggetti e anche delle cose antiche, però ora forse incominciamo, bisogna incominciare a studiare e a osservare anche gli oggetti e la storia contemporanea. Detto questo ringrazio tutti, tutti davvero tutti quelli che sono collegati, ringrazio gli amici nuovi che adesso saluterà in diretta il dottor Raimone e poi passiamo la parola a Jennifer che almeno non ha bisogno di presentazioni perché avremo tutti modo di conoscerla in diretta anche per chi non la conosce e sarà una bellissima esperienza. Ecco, passo la parola al signor Massimo. Grazie a tutti, un ringraziamento a chi ha organizzato l'evento, un ringraziamento anche da parte mia a Roberto che è stato il punto di unione tra le varie associazioni. Noi da parte nostra come Unitretto di Metropolis abbiamo provveduto a estendere questo invito ad altre 14 Unitre a livello nazionale, così vediamo come questo possa un pochino spostare l'attenzione dagli etruschi, dai romani, dal Medioevo, eccetera, fino anche a qualche cosa che è di più difficile lettura, anche se dovrebbe essere un linguaggio per certi aspetti anche più facile perché contemporaneo. Quindi io vi ringrazio, non rubo altro tempo e buona serata. Grazie Antonella, grazie Jennifer, è un piacere conoscervi tutti. Ciao Roberto, noi ci sentiamo 20 volte al giorno. Paolo? Sì, grazie. Io come past president dopo 40 anni di presidenza, adesso c'è Antonella e ci troviamo tutti molto bene, le facciamo i migliori auguri, vale la pena di fare questo primo ciclo importante sull'arte contemporanea guidati da Jennifer Celani, che è un'esperta, una storica dell'arte e quindi ci troviamo bene, viva l'arte, viva noi, ecco, questa è la cosa più importante. Quindi benvenuti a tutti, grazie. Bene, allora grazie Antonella, un abbraccio forte al dottor Raimone, a Roberto Dottorini, a tutti i membri del Consiglio, un grazie veramente caloroso. Dunque, il titolo del nostro primo incontro lo vedete sotto, ma è proprio il titolo che vogliamo dare a questi quattro incontri, è un'introduzione attiva all'arte contemporanea perché vorremmo proprio poter avviare un dialogo con tutti, cioè bisognerebbe tirare fuori le nostre osservazioni e condividerle il più diffusamente possibile. Perché? Perché parlare dell'arte contemporanea mentre lo viviamo è una delle attività più difficili che ci possono essere. Pensate, per esempio, ai dibattiti televisivi con eventi tragici o non tragici in corso, ecco, quante voci vengono fuori. Quindi, parlare della contemporaneità deve suscitare condivisione, ma sarà anche un lavoro difficile e divertente in contemporanea. Allora, proviamo con la prima slide. Dunque, io vorrei subito entrare in MediaRes. Vi farò vedere delle immagini, avremo 17, diciamo, slide, diapositive di questo PowerPoint a condividere insieme, e senza commentare troppo vorrei darvi un'impostazione generale. Secondo il Codice dei Beni Culturali, quindi proprio dal punto di vista legislativo per quanto riguarda l'Italia, per l'arte contemporanea, torniamo un attimo indietro, ecco, grazie, lo leggiamo insieme, per l'arte contemporanea si intende tutto quello che viene prodotto da un artista ancora vivente o le cui opere hanno meno di 50 anni. Grazie al provvedimento speciale dell'articolo 10, e qui apro una parentesi, un'opera d'arte in Italia è potenzialmente un bene culturale, cioè va tutelato, se ha più di 70 anni e per diventare un bene culturale deve essere sottoposto a una verifica per il suo valore artistico e storico. Quindi questo è molto importante da tenere in mente. È chiaro che gli oggetti che vengono esposti nei musei, per esempio nei musei statali o nei musei civici, sono ope legis dei beni culturali. Allora, per l'arte contemporanea c'è un provvedimento speciale, dice, se l'artista è ancora vivente e l'opera d'arte non ha, diciamo, i 70 anni, ma addirittura ne ha meno di 50, può avere un provvedimento, si chiama, di eccezionale valore artistico. Questo procedimento però è avviato dalle commissioni regionali sulla documentazione che viene fornita dalle singole soprintendenze, cioè io potrei trovare durante, per esempio, non lo so, lo sdoganamento di un gruppo di opere artistiche, un'opera che dovrebbe andare all'estero, che invece fa parte dell'arte contemporanea, ha un eccezionale valore artistico, io lo posso bloccare e farlo rimanere con un provvedimento speciale sul suolo italiano. E questo è una cosa che potrebbe aiutare l'arte contemporanea italiana. Vi cito il caso delle opere di Marino Marini, continuiamo a leggere insieme la diapositiva. La collezione donata dall'artista alla sua città natale a Pistoia, negli anni Ottanta, ricevette un decreto di vincolo emanato dalla direzione generale del Ministero della Cultura solamente nel 2021. Ma perché? Perché queste opere potenzialmente stavano per essere disperse e la raccolta stava per lasciare Pistoia e quindi stava per essere violato il desiderio del maestro morto appunto a metà degli anni Ottanta. Quindi è stato fatto questo eccezionale valore artistico delle opere di Marino Marini. Questo per impostare un po' i meccanismi dal punto di vista legislativo del codice. Ma cerchiamo di divertirci un po' con la prossima diapositiva perché dobbiamo entrare un po' più in merito a cosa si intende per arte contemporanea. La domanda che forse ci porremmo più volte nel corso dei nostri incontri e che rimane sottintesa è che cos'è l'arte e come applicare questa definizione alla nostra contemporaneità. Quindi dobbiamo partire da qualche parte. Voi sapete benissimo che la filosofia si interroga da secoli sul significato dell'arte. Platone e Aristotele se lo sono domandati e hanno provato a darsi delle risposte. È praticamente impossibile. Però tentiamo di leggere questa che ho trovato particolarmente interessante per voi. Il filosofo Fabrizio Desideri ha un incontro aperto agli insegnanti organizzato dalla sezione didattica degli uffizi nel 2006 e cito il professor Desideri perché grazie a questo incontro ideato dal nostro Paolo Berruti con Graziella Magrini, la nota psichiatra della sindrome di Stendhal di Firenze, il buon filosofo Desideri fu incaricato di dare una definizione dell'opera d'arte e venne fuori quello che leggeremo insieme. Cosa intendiamo, dice Desideri, quando definiamo qualcosa un'opera d'arte? Essa è uno dei modi antropologicamente costanti attraverso i quali l'esperienza umana si orienta nel mondo e lo trasforma. L'arte non è semplicemente un modo di rappresentare il mondo, ma presuppone innanzitutto la capacità che ha l'uomo di produrre con la sua intelligenza e con le sue mani sia letteralmente sia metaforicamente intese, quindi includendo anche il dispositivo tecnico, qualcosa che in natura non c'è. Come applicare questo presupposto all'arte contemporanea? Il professore nel 2006 partì dall'opera di Marcel Duchamp e lo vedete lì nell'angolino, vi ho lasciato anche le date del grande padre del movimento Dada a Parigi. Nel momento che a diventare oggetti artistici sono candidati oggetti quotidiani come un pissoir o una ruota di bicicletta, la nostra abitudine a considerare come arte solo prodotti specifici del fare umano, come i grandi dipinti o le sculture, ne esce senz'altro scossa. Quando il manufatto tecnico ha trovato il suo senso in quello che ha fatto Duchamp, non nell'essere adoperato come ruota di bicicletta, ma guardato e riguardato nella sala di un museo, Duchamp ha chiamato in causa la nostra esperienza estetica. Dunque, dice Desideri, l'unità fra l'orientamento nel mondo che ha ogni individuo e la sua attività trasformativa, c'è un elemento che unisce e che a sua volta definisce un'opera d'arte come tale, cioè quando un oggetto ha un effetto sulla nostra intima esperienza estetica toccando il mondo delle idee. E vi ho messo la ruota di bicicletta, copia dall'originale perduto del 1913, Marcel Duchamp. Nella prossima diapositiva ho scelto per voi il celebre storico dell'arte inglese Michael Baxandall, il miglioso libro, Le forme dell'intenzione all'approccio corretto all'arte, sia antica che moderna e contemporanea. E lui tira fuori questo episodio. È il 1907 e uno sconosciuto pittore andaluso di 26 anni ha esposto le Demoiselles d'Avignon, che voi vedete a destra dello schermo. E quest'opera viene esposta a Parigi, 1907. La violenza della critica rimarrà nella storia, dice Baxandall. Continuiamo a stare con questa diapositiva, perché la spora è un altro elemento per aprirci all'arte contemporanea, passando attraverso le avanguardie del periodo moderno. E torneremo su questo punto. Baxandall dice Signori, per la prima volta nella storia dell'arte non è il committente che chiama le capacità, il talento di un pittore o di uno scultore per far decorare una sala, creare una statua per una piazza pubblica con i suoi soldi, oppure dipingere una piazza per la propria famiglia. Nel 1907, Picasso fa esattamente il contrario. Crea e propone al pubblico che a questo punto diventa acquirente. Sembra una banalità, invece è una rivoluzione copernicana. Non è più il rapporto committente-artista che per un certo periodo di tempo, e anzi fino a poco tempo fa, era considerato poco più di un bravo artigiano, eccezione fatta poi per i geni riconosciuti durante il periodo rinascimentale e anche successivo. Ma è soprattutto questo interesse, cioè è l'artista che crea e propone e cerca il pubblico. È il pubblico che risponde a lui dicendo lo compro, mi piace. Voi capite che si aprono le porte, cioè questo significa che qualsiasi artista può creare qualcosa e trovare corrispettivo nel proprio pubblico, perché non ha più bisogno della committenza, che era il vecchio rapporto. È una semplificazione, però in qualche modo ci aiuta a capire. Dal 1907, ma poco prima, ma con il 1907, nella prossima diapositiva, vedremo che poi incomincia l'era moderna, e tutto quello che nasce successivamente vengono chiamate per semplificazioni le avanguardie, che costituiscono la caratteristica dell'arte moderna. Quindi noi dobbiamo distinguere per facilitare un po' i nostri futuri dialoghi nei prossimi tre incontri con arte moderna. Stiamo parlando, sto semplificando, tutto quello che appare alla fine del XIX secolo e si afferma nei primi decenni del XX secolo, come il cubismo, ma c'è anche, e questo è un esempio, nella prossima diapositiva vedremo che poi nasce, oltre al cubismo, l'espressionismo che lo precede e che continua il suo divenire nell'arte, perché l'espressionismo poi va a sforare i primi anni del Novecento. Ma ancora, cosa c'è dopo? Altre avanguardie nel Novecento. Nella prossima vediamo l'astrattismo. Con Roberto Dottorini stavamo parlando appunto della difficoltà a volte di incontrare, sforando le nostre, diciamo, sicurezze date dalla tradizione a capire l'arte astratta, eppure l'arte astratta con il grande Kandinsky è stato un grande movimento del Novecento. È ancora successivo l'astrattismo di Kandinsky accanto all'astrattismo, per esempio, di un piede Maudreon, lo vediamo nella prossima diapositiva, dove invece ci sono delle influenze con la musica e l'urbanistica e con questo capolavoro Broadway Boogie Woogie che si trova a New York. Le avanguardie non finiscono con quelle che abbiamo enunciato. C'è ancora, naturalmente, con Picasso, oltre al cubismo, c'è il futurismo italiano, c'è il, e lo vediamo nelle prossime diapositive, c'è il surrealismo, voi vedete qui un Yves Tanguy, il futurismo, un Enrico Prampolini, pensate, questo manifesto addirittura è diventato un bene culturale nel momento in cui è stato bloccato prima della sua esportazione dall'Italia. Ed è un cartellone futurista del 1928. Altre avanguardie, sempre dell'epoca moderna, potremmo andare avanti con tutti gli ismi possibili, immaginabili, il suprematismo inglese, per esempio, o nella prossima diapositiva, credo di avere ancora qualcosa per voi. Perché dopo la Seconda Guerra Mondiale, nel secondo dopoguerra, nascono quelle che la critica chiama le neo-avanguardie, perché ci stiamo avvicinando sempre di più ai giorni nostri. Fra le neo-avanguardie, un'arte che suscita sempre è tanto dibattito, è l'arte cosiddetto concettuale. Io vi ho portato uno di milioni di esemplari di opere, di artisti concettuali, come quello di Joseph Kotzut, uno e tre sedie del 1965, che si trova sempre a MoMA di New York, perché, come voi sapete, dopo la grande stagione europea, l'arte si è spostata nel nuovo continente, non c'è niente da fare, l'apertura dell'America verso la contemporaneità, ancora adesso detta legge, nel mondo artistico. Quindi vedremo spesso delle opere che si riferiscono alle collezioni del MoMA, Museum of Modern Art. E cosa dice l'artista americano di origine tedesco? L'arte che io chiamo concettuale si interroga sulla natura stessa dell'arte, cioè addirittura stiamo arrivando dentro un buco nero del concettualismo dell'arte e ci fa vedere una sedia accanto alla fotografia realizzata di quella sedia e alla definizione di sedia dato dal dizionario. Lascio a voi l'interpretazione di questa opera d'arte al MoMA. Nella prossima diapositiva, fra le altre nuove neo-avanguardie, quindi siamo sempre un po' nell'arte moderna, ma ricordatevi, quello che è importante è, e qui mi soffermo un attimo su Andy Warhol, le avanguardie del Novecento sono impegnate nel rinnovamento, sperimentando linguaggi artistici. Con questo meccanismo della teoria di Baxandall, cioè l'artista che propone al pubblico e cerca l'acquirente nel pubblico, voi capite che le regole si rompono. Quindi anche le ideologie politiche possono subentrare nel fare artistico. E quindi le avanguardie si pongono per definizione in polemica con la tradizione e la cultura ufficiale, quella per esempio dettata dalle accademie all'epoca, perché adesso le accademie di belle arti si espongono invece ai nuovi linguaggi della contemporaneità. Quindi tutte le avanguardie del Prima e del Secondo dopoguerra si sono in parte riallacciate a una certa storia, ma si distinguono configurandosi con spinte sempre più forti di trasformazioni, anche del sistema produttivo. Ed ecco quando scoppia e leggiamo insieme questa diapositiva il consumismo, il mass media, cioè la televisione diventa, entra in tutte le case, Hollywood produce la fabbrica dei sogni e la riproducibilità dell'opera d'arte diventa una cosa semplicissima da fare, ecco che un'altra risposta delle neoavanguardie è la pop art, l'arte popolare. Andy Warhol, il genio della pop art, che non solo crea attraverso serigrafie, quindi non crea un'unica opera, ma riproduce più volte la sua stessa opera, dando la possibilità a più persone di acquisire quello che lui crea, ma è l'immagine, il contenuto stesso della pop art che diventa il messaggio, quindi non è solo il mezzo, ma anche il contenuto che diventa popolare, come la bottiglia di Coca-Cola, lui era un grafico pubblicitario, oppure la sedia elettrica, perché attraverso i mass media anche il concetto di morte, il concetto della cosiddetta giustizia sociale, entra a far parte del dibattito popolare, grazie appunto alla diffusione del mass media. Nella prossima diapositiva, quindi siamo ancora nell'era moderna, perché mentre scoppiano le polemiche nei confronti della pop art in America, in Italia, grazie alla definizione data dal grande critico e compianto Germano Celant, nasce l'arte povera in Italia, che ha delle radici abbastanza lontane. Ma ecco, per suscitare un po' di indignazione nel pubblico di stasera, volevo condividere con voi una delle prime opere che furono esposte, cioè questa Catasta di Alighiero Boetti, prima che diventasse Alighiero e Boetti. Sono blocchi di Eternit, oggi si trovano nella collezione Pinot di Venezia, ma all'epoca suscitarono molte polemiche quando fu esposto insieme ad altre opere nella cosiddetta prima mostra del 1967 dell'arte povera in Italia. Torneremo a parlare dell'arte povera. Ancora avanti, noi vediamo invece che è poco prima, è intorno all'epoca dello sfruttamento di materiali poveri da parte degli artisti della corrente italiana, Lucio Fontana esce con le sue attese o concetti spaziali. Qui stiamo vedendo una delle tante opere del maestro, quello del 1965, che è qui al Castello di Rivoli, quindi se vogliamo i tagli nella tela di Fontana possiamo goderceli anche vicino a casa. Questo è solo un accenno perché aprire una finestra su Fontana meriterebbe una lezione da sola. Ben presto però, e lasciamo quindi l'arte cosiddetta moderna e le nostre varie avanguardie, e vi ho fatto vedere veramente la punta dell'iceberg di una panoramica ricchissima di opere, si svilupperà un'arte ancora più ironica, ancora più anti-idealista, anti-conformista, ma al contempo più attenta alle realtà sociali poco visibili, come il movimento femminista che stava crescendo, soprattutto nei paesi anglofoni. e quindi nella prossima, grazie Feliciano, noi vedremo per esempio un'artista iconica ancora oggi vivente, Cindy Sherman, in uno dei suoi fotogrammi, questa è la numero 10, del 1978, senza titoli, che giocano sui ruoli della donna, fra un desiderio di emanciparsi dai ruoli imposti dalla società come quelli dei ruoli casalinghi e uscire, no? e potersi trasformare il più possibile attraverso diciamo ruoli che l'artista come fotografa crea personificandosi, mascherandosi e fotografandosi, quindi si automaschera da personaggio fuori dagli schemi stereotipati della donna e si fotografa e crea delle fotografie di grande grande effetto. Stiamo lasciando alle nostre spalle quindi il postmodernismo e stiamo per entrare andiamo avanti, stiamo per entrare appunto nella nostra contemporaneità. Quindi fra poco io mi fermo, voglio leggere insieme a voi però e condividere con voi delle parole che ho trovato molto interessanti. Sono le parole di Michonne Forty è la direttrice della collezione di arte contemporanea dei musei vaticani. Ecco, pensate cari amici musei vaticani l'arte più tradizionale possibile immaginabile perché pensate che le collezioni d'arte in Italia sono composti quasi dall'80 se non il 90% di arte sacra quindi cosa c'è di più tradizionale eppure i musei vaticani sono e rimangono aperti alla contemporaneità e ho scelto per voi un'opera che per me suscita grande emozione perché è l'artista stesso che suscita sempre grandi emozioni il grande Francis Bacon dice Nicole Forty ogni opera d'arte diventa un motore per generare domande questo si riferisce alla nostra contemporaneità rinnovare stupore e interesse indirizzare nuove conoscenze la costante ricerca del bello e del vero che sottende ogni ricerca creativa è sempre legata però alla messa in discussione delle nostre certezze e delle nostre tradizioni cosa vuol dire questo vuol dire che anche nella nostra contemporaneità possiamo e dobbiamo ricercare quelle opere che non solo come diceva Desideri suscitano scuotano la nostra emozione estetica ma per essere opere d'arte comunque devono dare un senso al bello e al vero e Bacon è uno di questi mi state dicendo state scuotendo la testa non è possibile definire Francis Bacon un artista alla ricerca del bello e del vero lo fa lo fa il grande artista attraverso la destrutturazione del corpo del viso dell'effigiato perché vuole rivelare ciò che è spesso nascosto quello che è il lato oscuro dell'umanità infatti non per niente è considerato come una una cerniera fra il le avanguardie dell'era moderna e l'arte contemporanea in quanto forse l'artista che più di ogni altro fino ad oggi ha rivelato il dramma dell'umanità potremmo anche parlarne più avanti bene cari con questo io volevo concludere volevo solo nella prossima diapositiva farvi vedere poi quelle che saranno quindi se oggi abbiamo molto brevemente parlato dell'arte contemporanea come esperienza dell'arte postmoderna appunto dopo le avanguardie vedremo come si sviluppa la nostra contemporaneità parleremo nel nostro prossimo incontro del sistema di arte oggi cioè come funziona come funziona allora se è l'artista che cerca l'acquirente come andare incontro e scoprire la nostra contemporaneità nel terzo incontro guarderemo gli artisti più famosi con uno sguardo al femminile questo sarà un lavoro difficilissimo perché mentre noi stiamo parlando c'è una nuova contemporaneità là fuori ci sono nuovi artisti che emergono ci sono nuovi linguaggi da scoprire nel quarto incontro cercheremo appunto di raccogliere un po' di conclusioni e prospettive attraverso quello che spero avremo tempo da fare in questo momento in poi quindi io direi lascerei la parola a voi il dottor dell'amora vedrà che nel mio powerpoint ho lasciato due diapositive di riserva perché non so se avete ricevuto una breve lista bibliografica uno era il numero monografico non per fare pubblicità arte dossier ma per chi vuole avvicinarsi con veramente poco sforzo e pochi soldi può comprare il numero di arte dossier in cui Ludovico Pratesi ha curato nel 2017 quindi è già vecchia il suo elenco degli artisti contemporanei quindi lascio la parola a voi perché altrimenti potremmo brevemente parlare di questo numero a voi tutti grazie grazie Jennifer e grazie davvero per questa introduzione questa carrellata e mi ritrovo molto nelle parole della curatrice della sezione dell'arte contemporanea dei musei vaticani perché è proprio vero l'arte contemporanea ci costringe a interrogarci e per cui per cui è forse proprio per questo che la troviamo cioè che ci è così difficile perché non è soltanto un godimento ma è un godimento che va proprio un po' decodificato per cui credo che con questo percorso che stiamo iniziando probabilmente ci sarà un grosso aiuto certo che è proprio un filo sottile quello che divide l'arte contemporanea che è sempre più contemporanea come giustamente dicevi tu e per cui vediamo vediamo cosa ci aspetta nei prossimi numeri io sono affascinata dall'arte contemporanea ammetto che è una cosa che mi intriga molto perché è una sfida una sfida proprio a capire a svecchiarsi come dire qualcuno vuole dire qualcosa vuole aggiungere vuole anche non so in modo provocatorio oppure eh sì eh sì bisognerebbe bisognerebbe ehm lo stesso Pratesi professore Pratesi dice che il dibattito sull'arte contemporanea in Italia è molto indietro eh sì eh il pubblico non è a vezzo a a ad esporsi e e e e questo è paradossale perché l'Italia detiene dei primati di nell'arte contemporanea che sono straordinari pensate solo a che cos'è la biennale di Venezia che invito tutti vi prego tutti fate uno sforzo fate un investimento per voi per i vostri nipoti per i vostri figli andate una volta a una biennale di Venezia è la più longeva senza soluzione di continuità esposizione di arte contemporanea al mondo la più prestigiosa al mondo e ce l'abbiamo noi sul nostro territorio nazionale e se non sapete come funziona nel prossimo incontro vedremo come funziona la biennale di Venezia pensate l'esposizione di arte contemporanea più lunga e più prestigiosa al mondo e ce l'abbiamo noi ma io credo che sia giusto avere delle perplessità perché non è che si può far finta di capire tutto o capire veramente tutto siamo così lontani da tutto l'arte che abbiamo imparato per cui buttare giù lì qualcosa e dirci che quella è l'arte ovviamente crea dei problemi più o meno insormontabili però forse vale la pena di cercare di capire ma cercando di capire veramente non come moda ma come realtà del profondo ecco cosa ne pensate voi questo mi sembra importante da capire ancora scusate vorrei vorrei sfatare un mito essere più polemica possibile da buon new yorkese e non si tratta di decifrare l'opera contemporanea non c'è niente di più facile dell'arte contemporanea cioè se l'artista che vi viene incontro e che vi cerca vi piace il dialogo è immediato non c'è bisogno di un critico che ve lo interpreti ecco questo è quello che va sfatato noi vedremo delle cose insieme ma se non ci esponiamo alle opere non c'è fotografia non c'è libro non c'è critico che tenga che possa sostituire l'emozione di trovarsi davanti a un artista contemporaneo e dire ti adoro mi susciti delle emozioni perché l'obiettivo è sempre quello e se vogliamo tornare un attimo indietro non so se Feliciano lo può fare vorrei vedere insieme con voi se avete voglia o se no continuiamo la discussione nell'ultima diapositiva Ludovico Pratesi fa un'elencazione senza fine di nomi grazie Feliciano grazie tantissime è proprio la penultima e tira giù tutti questi nomi e li elenca uno dietro l'altro da Jeff Coons a ecco le vediamo insieme Maurizio Catellan eccetera eccetera e un po' suscita una rabbia perché è il classico quello che viene chiamato in inglese il name dropping cioè fare il nome dell'artista e dire mi piace hai visto l'ultima mostra dandosi delle aree perché entriamo un po' in quello che viene chiamato il sistema lo star system degli artisti ma qui viene fuori un'enorme condanna da parte della critica perché uno dei lati oscuri dell'arte contemporanea è il feticismo che si crea intorno ad alcune personalità per cui è difficile veramente perché c'è un valore economico di portata diciamo importante e questo crea no una come dire se tu sei ti interponi e ti interfacci con l'arte contemporanea soprattutto con i grandi artisti che ce l'hanno fatta allora diventa una specie di snobismo intellettuale perché ti pieghi a questo star system di questi artisti sovra 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 pagati spesso e volentieri e questa è una delle condanne che vengono mosse intorno all'arte contemporanea però c'è tutto il resto ecco e tuttavia noi non dobbiamo pensare solamente a quello che dice Paolo cioè alla difficoltà di lasciare le nostre tradizioni per metterci in contatto con il nuovo linguaggio espressivo non dobbiamo farci intimidire dallo star system che premia alcuni artisti e lascia indietro altri ma cercare in qualche modo nel nostro piccolo di esporci il più possibile per incominciare a capire come funziona l'arte nei nostri giorni perché non ha mai perso di potere di attrattiva non ha mai perso poi quello che Germano Celant il suo ruolo etico e sociale è soltanto che i linguaggi sono cambiati ma la ricerca del bello e del vero e l'impegno sociale perché ricordate le grandi pale d'altare nelle chiese del rinascimento come quelle per esempio di Brunelleschi quelle pale avevano una funzione etico e sociale perché erano i santi a cui ci si rivolgeva per avere in cambio dei miracoli in una vita spesso ridotta allo stremo quindi l'arte comunque aveva sempre una funzione sociale ecco questo va ricordato e i grandi artisti oggi a parte i soldi che vengono pagati spesso e volentieri cercano appunto di arrivare a toccare i cuori di quel pubblico a cui rispondono con questo stesso impegno altrimenti non è arte sono tentativi ma certo è difficile trovare un impegno sociale nelle tele tagliate eppure c'è e vengono spesi miliardi per comprare beh miliardi no però insomma milioni di euro ecco Antonella e stavo anche pensando a certe opere d'arte contemporanee che fanno male cioè non sono proprio belle al di là dell'avere dei carri ma ti fanno quasi male addirittura ti fanno un po' soffrire perché ci sono questi personaggi appesi ai ganci che si periscono e lì è difficile riuscire a dare un senso a dare un senso a questa socialità o siamo una società che sta malissimo e allora l'arte lo esprime lo esprime in modo pieno però allora se è così accipicchia il progetto che abbiamo vinto che l'arte avrà cura di noi è da mettere in atto immediatamente ma curando per primi gli artisti non lo so sono un po' preoccupata nel senso che bisogna vedere dove andiamo a finire va bene ma non c'è solo la ricerca dell'orrido e non c'è solo infliggersi il dolore attraverso appunto l'autolesionismo di alcuni artisti ci sono puoi scegliere visto considerato appunto con il teorema di Bax and Dahl puoi scegliere altri artisti non c'è bisogno di se appunto il mercato è interessato comunque a quel tipo di linguaggio vuol dire che c'è un certo pubblico che risponde a quel linguaggio noi dobbiamo pensare che nel novecento e con questo poi lascio la discussione agli altri altrimenti parlo sempre io uno dei motivi per cui appunto Picasso nel 1907 propone le Demoiselles d'Avignon è perché noi dobbiamo pensare a tutte le grandi trasformazioni sociali che ci sono stati nel novecento pensate a tutti i movimenti politici e sociali per appunto risvegliare le coscienze riguardo ai diritti dell'uomo pensate al movimento appunto per la il riscatto sociale della della donna e finalmente a che punto è arrivato la donna che può addirittura diventare un artista la ricerca di Picasso era anche un'altra questione molto molto difficile il riconoscimento dell'artista come professione perché non c'è ancora e l'Italia è molto indietro perché è molto difficile quando uno dice io sono un artista dice va bene ma poi cosa fai nella vita ecco questo cioè non c'è molto spesso un riconoscimento della professione questo è stato sempre oggetto di un grande dibattito e continuando appunto su questo su questo ragionamento noi possiamo nelle mostre anche io Antonella aborro l'autolesionismo di alcuni artisti quando l'Abramovic all'inizio si tagliava mi dava fastidio ma l'ultima Abramovic invece è una una grande artista ora appunto sto usando un nome che forse non tutti i nostri amici conoscono ma Marina Abramovic diventerà oggetto delle nostre proprie prossime lezioni perché quell'artista è capace invece di suscitare delle enormi emozioni in alcune delle sue opere altre persone ritengono di no ecco quindi in questo in questo dialogo costante noi dobbiamo anche saper scegliere altri tagliano le tele antiché tagliare se stessi meglio così però la prima volta che si è visto un concetto spaziale di Fontana veramente negli anni sessanta è stata una grandissima emozione cioè non per tutti credo e vabbè Paolo non per te per me è stata un'enorme emozione quando l'ho visto per la prima volta all'Agnambi di Roma ero giovane cari amici ci sono altre osservazioni vorrei sentirvi chi di voi è stato ad Artissima chi è stato ad Artissima posso fare una domanda mi sentite sì prego qual è l'opera che delimita l'arte moderna con quella contemporanea c'è una data o un'opera precisa questa è un'ottima domanda in realtà non c'è mai una cesura netta mai ad Artissima che doveva essere la fiera a Torino per l'esposizione di arte contemporanea hanno fatto vedere molte opere di artisti attivi negli anni settanta e ottanta quando in realtà stavano diciamo finendo stava finendo la grande stagione del pop art per esempio o dell'arte povera in Italia pensate anche a Michelangelo Pistoletto che attraversa sia l'arte povera che la contemporaneità e alcune delle sue opere vengono ancora riproposte questa è un'ottima domanda il passaggio fra il moderno il post moderno e la contemporaneità non è mai netta non c'è mai una una cesura è difficile farlo è difficile farlo perché ci sono molti artisti che hanno lavorato prima che continuano ad arrivare che continuano ad essere considerati contemporanei ancora oggi prego Jennifer mi senti sono Franco ciao se vi riflettevo su una cosa che avete detto all'inizio del dibattito sul fatto dell'emozione estetica che è qualcosa da cui non si può prescindere quando si parla di altri sensori sì questo è quello che ho capito e mi chiedevo voglio dire non sono molto la cosa su questo perché se tu pensi non so a opere come possono essere Giulio Paolini dell'arte povera dove lui fotografa in bianco e nero un particolare di un petto di Lorenzo Lotto intitolando questa piccola fotografica di 10-20 giovane che guarda Lorenzo Lotto non c'è emozione estetica ma è proprio l'emozione è data dal concetto ma esteticamente non è particolarmente appealing come opera o se pensi ai lavori di Sotticao dell'artista francese che adesso è una grande mostra a Parigi sono opere dove lei assembla delle fotografie dei testi ma di emozionale da un punto di vista estetico non c'è niente questo trovo che sia qualcosa molto importante nell'arte contemporanea perché quando si parla di Lucien e pensi al Pussoar di Toto che alla bicicletta c'era un fattore di emozione per la prima una volta di scandalo di rottura questo però stiamo parlando di quasi un secolo fa oggi l'arte contemporanea è molto più concettuale che non visiva salvo casi però fondamentalmente la trovo da un punto di vista estetico molto spesso povera non così emozionale quanto lo è invece da un punto di vista concettuale sì dunque sì sì ecco se se mi date un attimo di tempo appunto l'emozione estetica di cui parlava Desideri sulla scia dell'intervento di Graziella Magherini e di Paolo Berruti in realtà si riferiva non tanto a quella emozione che può suscitare una forte emotività quanto toccare toccare proprio un'esperienza di bellezza o di godimento che è personale perché non è molto difficile oggigiorno giudicare oggettivamente l'arte contemporanea quindi è un dire oi boh mi trovo di fronte a qualcosa che mi suscita qualcosa dentro e questo vale anche per l'arte antica perché non tutta l'arte antica era arte aveva una funzione religiosa aveva una funzione pratica aveva eh no ecco quindi l'estetica a cui si riferiva desideri era un un processo interiore quasi neuroestetico cioè scatta un meccanismo e non vedi più l'oggetto come qualcosa che si adopera ma ma qualcosa che ed è vero lo scandalo certo è la prima volta che questo succede nella storia una risonanza emozionale una risonanza emozionale dice Paolo sì cioè per essere un'opera d'arte deve comunque entrare in una in una in una relazione con te qualunque sia qualunque sia esatto 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 buonasera Carlo l'ho 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 mosco il coperto tramite me 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 metropolis di 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 Torino ecco non mi fai fatti abito a Torino ecco non ci sono proprio provvedo di di opere d'arte anche io eccetera se cioè adesso se se vi visito un museo qualsiasi quello che a me piace piace punto ad cioè un attimo ad e non mi fai fatti non mi avevo oltre ad andare in museico come guida la storia quando è stato fatto il quadro non notate ma questo questo particolare e l'autore che che ha dipinto questo quadro eccetera eccetera non è che va vabbè ma a rete tutto sommato preferisco andarmi ma cercare la storia dell'opera in rete dopo ma se senza stare lì a sentire tante troppe parole sull'opera esattamente come un pezzo di musica quello che mi piace mi piace punto adesso il fatto che Bach l'abbia composto nel 1760 d'accordo importantissimo però non mi passa mi sei cocondaria la cosa come adesso ultimamente ero stato fare un giro a Genova dove mi preparano il terzo piano c'era una raccolta di opere moderne veramente interessanti come in una mi sei esempio una serie che candelabri utilizzati eccetera eccetera così poi dopo adesso volevo aggiungere una cosa a me non mi piace fare fotografie ci cerca adesso qualcosa di un po' anche se nella fotografia oramai è stato fatto di tutti e di più e anche il discorso adesso non mi sto stando vicino abbastanza ma foto ritocca eccetera così però anche lì ci sono delle cose escezionali come c'è ad esempio un fotografo che deve essere svizzero si si chiama che ha dei fotomontaggi escezionali infatti ecco adesso mi 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 fermo perché il discorso si sarebbe ancora lungo ecco comunque infatti grazie 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 a lei sulla fotografia è vero è vero sì certo diciamo che appunto come avete detto l'incontro capovolge un attimino c'è un oggetto l'oggetto che ha suscita un rapporto emozionale anche se quel rapporto emozionale può essere anche infatti ecco anche cioè insomma avevo volte infatti non mi volevo cioè aggiungere ancora una cosa quando mi vedo una fotografia dei paesaggisti dell'ottocento non proprio professionisti eccetera regolarmente adesso penso che se 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 fosse stato lì quella fotografia l'avevo rifatta se è stato identica regola dei terzi le linee di fuga eccetera eccetera tutte queste varie cose che ormai è lungo è lungo adesso adesso abbiamo il cartello di Rivoli ecco devo farci un giro ecco benissimo benissimo eh sì lo consiglio a tutti ci sono altre ci sono altre osservazioni scusa una cosa prego io ho dei dubbi perché quando vedo Fontana che riproduce le stesse tele per decine di volte la prima volta mi emoziono perché lui mi dà un messaggio dopo mi sembra che diventi una fabbrica di un prodotto che lui fa soltanto per venderlo vorrei sentire il tuo parere no 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 Roberto sono sono d'accordo con testo ehm uno del uno delle diciamo dei libri che vi avevo messo era proprio quello di Germano Celant Art Mix che denuncia proprio questo cioè quando l'arte poi diventa un business per molto semplicemente e perde il suo ruolo sociale ed etico il ruolo sociale ed etico è anche quello di suscitare lo scandalo di cui ci parlava Franco Chiarpei dalla Puglia perché comunque i ready made dei Dada del movimento Dada sono uniche anche se la bicicletta l'hanno persa la ruota e l'hanno dovuta replicare però è vero è vero ma pensa Roberto la stessa cosa è successo con Picasso alla fine lui stesso si autoprendeva in giro dicendo basta uno scarabocchio e me lo comprano e lo stesso Andy Warhol autoconsapevole dice è così è così l'arte è un business e ve lo farò vedere perché voi comprerete le mie serigrafie e scommetto che lo farete perché è proprio quello che voi volete ma a questo punto Roberto Warhol sta facendo una denuncia è quasi paradossale cioè lui crea per vendere però poi dice vedete ci avete cascato allora ho ragione io perché poi è solo più il nome dell'artista che fa lo scarabocchio diventato visto che ha la sua firma è diventato un'opera d'arte esattamente ed è esattamente quello che molte avanguardie hanno voluto denunciare e quando appunto Franco prima ci diceva che la ruota di Duchamp ha creato prima di tutto uno scandalo ma era perché Duchamp diceva ma ragazzi questa è arte ve lo capovolgo lo metto in una sala di museo se suscita un'emozione è arte certo raggiunto 1913 cioè adesso adesso c'è giunto un'altra cosa a proposito di arte cioè adesso non so più più dove ma qualcuno aveva messo no qualcosa di nominabile eccetera adesso non voglio essere a proposito in una scatoletta eccetera questa è come di lo scorso anche delle lattine d'aria certo certo ma pure un altro cioè adesso il prima era stato era stato era stato Andy Vavorola per l'appunto queste scatolette di camp minestri inglesi allineate eccetera 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 ma se stessa ma ma ripetuta 50 volte colori diversi eccetera eccetera no e cioè adesso è arte ma che quello che e chi in pratica riesce a fare qualcosa per 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 primo e imporla agli altri dicendo no infatti che una cosa certo certo però ecco assolutamente semplice di Antonella perché non io direi che giusto per non togliere il piacere dei prossimi incontri se non ci sono contributi ulteriori come abbiamo promesso sarebbero state degli interventi brevi in modo tale da non andare poi a sporare nella stanchezza della giornata direi che se siamo tutti d'accordo ringraziamo fortemente Jennifer per questo primo intervento ringraziamo Feliciano che ci ha assistito tecnicamente ringraziamo davvero tutti ti applaudiamo in modo virtuale ma ti applaudiamo davvero tutti e siamo tutti invitati al prossimo incontro tra 15 giorni per cui il 21 novembre e in quello vi manderemo insieme al link anche la bibliografia perché nella locandina non l'abbiamo riportata ma a questo punto la riporteremo intanto la prendo dal tuo progetto magari mettiamo anche i titoli dei prossimi incontri così la gente sa che cosa aspetta e avrà anche modo di fare qualcosa ok buonasera un saluto a tutti alla prossima grazie ciao Paolo ciao Jennifer grazie